distruggete l'obiettivo abbiamo la bomba missile predator disponibile la bomba è nostra il tempo è quasi scaduto la bomba è stata fiazzata occhio alle spalle uavi nemico individuato ottimo lavoro preparatevi al prossimo round cerca i distruggi distruggete l'obiettivo abbiamo la bomba la bomba è stata fiazzata 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 ottimo lavoro preparatevi al prossimo round cerca i distruggi distruggete l'obiettivo abbiamo la bomba Ok. 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 AC-130 disponibile. Completa la missione, sei l'ultimo rimasto. Il tempo è quasi scaduto. Quattro diametro. Ottimo lavoro. Preparatevi al prossimo... intervallo. Cep. Difendete l'obiettivo. Il nostro AC-130 è in volo Andate a finirlo Prezi Colpitele Impostare raggio scansione Uovi Impostare raggio scansione Fogo! Cobra alleato in arrivo Cobra alleato in arrivo Il tempo è quasi scaduto Il tempo è scaduto Missione compiuta, è fatto.